La finale continentale di Lesno in Polonia ha visto la partecipazione dei 16 migliori piloti riusciti a superare le impegnative qualificazioni iniziate nel mese di aprile. Inizia per un posto mondiale 96 piloti in rappresentanza delle 13 nazioni che si sono sfidati nell'arco della stagione. Grazie a tutti! 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 Becca'sbound Samtu. FAX1- == Grazie a tutti! Grazie an dellovator x smoke Grazie a Tymian Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Thank you! Grazie a tutti! Sì, c'è l'ultimo. Nell'ultima grande sfida continentale... Nell'ultima sfida continentale... Nel'ultima sfida jauva a vroga Nowa, vroga sól nebce Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Chieva... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.